Marjorie Turner ha un piccolo problema. Dovresti lasciare Harry e trovarti un amante. Suo marito. Secondo me l'unica ragione per cui tu e Harry non avete figli è perché non scopate abbastanza. Ma tu sei fissata! Non ti andava, vero? Poi un bel giorno. Così schiaccia i formaggi. Il piccolo problema di Marjorie scomparve. Oh, mamma! Lasciandola... Oddio, che meraviglia! ...con un problema ben più grosso. Sono io che l'ho ucciso. Risponda! Causa della morte? Si è fatto venire un attacco di cuore. Beh, almeno è morto nel sonno. Mentre stava dopo. Vero? Ah, spero che sia stato dopo. Ma è disgustoso. Sembra che io gli abbia fatto un effetto proprio incredibile. Si è suicidato con i lassativi. Esattamente. Sai che non l'avevo mai visto, Nudo? Detesto toccare qualsiasi cosa di sotto dalla cinta. È molto irregolare. Non si lasci coinvolgere. Kirsti a lei. Così devo confessarmi per due cose questa settimana. Will Pullman. Mi sento eccitato. Carrie Fisher. Accidenti, che berrene. Jamie Gertz. Io adoro i pesci. Scott Becula. Il mio intestino retto ti fa schifo. Se è meglio. Ed o Neil. Buon appetito. Scappatella con il morto. Quello non era sesso. Quello era il paradiso. Oh! 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 Grazie a tutti.